Buon pomeriggio avesci della FWPA e di Youtube per la nostra goal pari, doveri i 5 migliori goal di questa settimana come sempre magistralmente curati dal nostro Bomber 9, la voce che vi accompagnerà è di J.Flauti andiamo subito alla numero 5 con Masai degli Italian Bandit buona giocata a centro campo, fitta rete di passaggi il pallone che arriva poi a Masai che batte il portiere tirando da fuori e sorprendendo quindi il portiere che prova a prendere la palla ma non ce la fa quarto posto i Bomberoni con Lazzarone Ita89 pallone recuperato da un errore difensivo palla che arriva Lazzarone che tenta un tiro che si trasforma in un lob che sorprende il portiere incredulo, un goal iniziato dall'errore difensivo avversario ma poi trasformato in un gran bel gol da Lazzarone e adesso si va alla medaglia di bronzo dove magistralmente posso introdurre il mio compagno di viaggio il mitico Bomber 9 che come il flaco pastore si fa trovare presente in aria un tacco grandissimo e Bomber 9 benvenuto con i tuoi Toppers FC in questa classifica medaglia d'argento dei Gualer FC Boston K93 giocato sulla fascia e bom di testa potentissimo Boston K93 medaglia d'oro va lui ancora una volta gli Italian Bandits Masai si trasforma in uomo assist con una giocata funambolica palla al centro e via al volo è il perrososa inviateci i vostri gol migliori all'indirizzo golparade fwpacchiocciolagmail.com e continuate a seguirci sui nostri canali youtube, facebook, discord e sul nostro sito internet non ci resta l'ora che salutarci e aspettarvi ancora la settimana prossima ciao c'è ragazzi